Dieci immobili e due conti correnti bancari per un valore di circa 750.000 euro sono stati posti sotto sequestro dalla Direzione Investigativa Antimafia. Destinataria del provvedimento, l'imprenditrice quarantenne di Agrigento Maria Barba, detta Giussi, titolare di un'attività nel settore dell'assistenza agli anziani e disabili all'interno della cooperativa Suami, al centro attualmente di un'inchiesta per appropriazione in debita e riciclaggio. Secondo quanto emerso dall'indagine degli investigatori della DIA, il punto centrale della vicenda riguarda il riempiego di denaro proveniente dall'attività illegita scaturita dalla gestione di una onlus. Magistrati e investigatori hanno analizzato dettagliatamente il materiale contabile dell'attività di Giussi Barba passando a setaccio i rapporti finanziari e riscontrando numerose irregolarità, sempre secondo l'accusa. La donna e la moglie di Salvatore Lupo, ex presidente del consiglio comunale di Favara, assassinato il 15 agosto del 2021 dal padre dell'indagata Giuseppe Barba, poi arrestato e attualmente sotto processo per il delitto. Delitto che secondo l'accusa è connesso ai contrasti economici relativi alla separazione tra Giussi Barba e appunto il defunto marito. Quest'ultima era anche stata rinviata a giudizio insieme all'ex marito per l'accusa di estorsione ai dipendenti della cooperativa.